Benvenuti benvenuti in un nuovo episodio della FG Fail, allora sono un paio di minuti che mi sono loggato in modo da far crescere un po' di questi blocchi Prima mattina raga, quindi se parlo un po' così non me ne volete, non me ne volete, non me ne vogliate Allora, continuiamo un attimo a prendere i blocchi e penso che già dovremmo averne a sufficienza Intanto visto che ci siamo, diamoci pure questi e andiamo a fare un paio di cosette, mazza quanto lag Allora, prendiamo di nuovo gli iron ingot e rifacciamo un'altra prova perché mi è stato suggerito nei commenti Intanto grazie sempre per i commenti ragazzi, vi ricordo che io li leggo sempre tutti Puro perché non è che sono tantissimi, quindi non c'è niente a leggere, dovete commentare di più la serie No scherzo, fate come vi pare, ma abbiamo quasi finito questi, non va bene Mi è stato suggerito di provare con la crafting table quella dell'inventario anziché quella del cazzo in culo lì Quindi, nella crafting table, ma vedete sta stronza, si Guarda, io la riparo, premo B e già è di nuovo così, quindi niente, non c'è modo Probabilmente andava fatto subito quel discorso lì di cosa, insomma, di cosare la cosa Allora, andiamo nella nostra crafting table Buttiamo... no, no, ridammi il wait Ok, andiamo nella nostra transmutation Buttiamo un po' di roba che possiamo buttare, io manco ci vedo stamattina Blocchi di diamante, semi, questi qua non li posso mettere Questi, neanche, questo sì Ok, sto facendo un po' di pulizia dell'inventario perché... no, ragazzi, veramente io non ci vedo stamattina Perché non ti metti gli occhiali, perché non c'ho voglia di alzarmi adesso ad andarmi a mettere gli occhiali Ma io non vedo neanche le goldene... stanno qua, stanno qua, ok Togliamo questi e... dobbiamo mettere da parte le mobzilla scale Demon nugget non ci servono più, dobbiamo riparare un po' il nostro arco Comunque, andiamo qui e rifacciamoci un po' di mobzilla scale per farci l'armaturozza Quindi, elmetto, quindi... boots, quindi... questa che non è niente perché si fa così E... questi qua Allora, vediamo un po' Protection 10, Fire Protection 10, Blast Projection 10, Projectile Protection 10, Unbreaking 5 Rispetto a 5, quindi ha... vedete, ha anche Unbreaking Poi abbiamo questa che ha... tutti i 5 qua abbiamo 10 sempre con Unbreaking Feather Falling 10, quindi il Kraken non dovrebbe più rompere i coglioni Insomma, abbiamo una super, super, super armatura Quindi la nostra, bellissima Qualcuno mi ha detto, perché metti nelle chest i pet se puoi rifarti nella Transmutation? Non lo so Non lo so Ma io voglio vedere una cosa, ma non c'è il ring? Non c'è, vaffanculo E' Nishin' orri... ah, questo io l'avevo visti Questi io l'avevo visti Zero Ring Sax Inner by Eden Drops Ringo Varkana Questi devono essere carucci da fa' Ah, che è sta roba? Mobius Fuel Philosopher's Stone Alchemical Call Ok, si può fare C'è un sacca... un sacca... c'è un sacca di roba Di Project E Che dovrebbe essere carucci da fare? Questi tipo... questi alchemical bag, che cazzo sono? Antimatter relay Questa è tutta roba... interdiction torch Che fa? Devo scoprire un attimo che fa sta roba Attack Damage Vabbè, questa... queste no... sono abbastanza... Scarse rispetto a quello che già abbiamo Book of Alchemist Water Orb Lava Orb Cazzo è sta roba Remaining Rod Fire Star Rob to nearby mobs Ah, figata, è tipo una torretta, praticamente Allora, sta roba... Mamma mia, quanto... 28 milioni di EMC Hurricane Boat Press F to toggle Step Assist Minchia Insomma, è tutta da vedere Voglio vedere questa alchemical bag... A che cosa servono? Non sembra niente di... 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 Interessante Allora, io dovrei fare una cosa Allora... Mmm... I laghi block, li avevamo messi qua? Ok Prendiamo dei laghi block Sono tutti... Lack 0 Però io prenderei... I diamanti... Sì, diamanti scritti in italiano Prenderei dei diamanti E mi farei qualche laghi laghi block Facciamo così No vabbè, 64 sono troppi Però dai Non esageriamo Che cazzo sta succedendo? Sì, si è buggato il mondo Ok Allora, così ce ne facciamo 8? Dai, accontentiamoci di 8 Allora, io voglio... Ehm... Ma perché mi sta funzionando di merda? Ok Ehm... Togliamo questa Madonna che bordello Allora, togli vesti Togli vesti Togli vesti Togli vesti Togli vesti Ok, allora abbiamo un sacco di laghi block E abbiamo una bella armatura per aprirli Perché sto facendo i laghi block? Perché abbiamo bisogno di... Ehm... Queste schiello No, vabbè, schiello però le poso A questo punto poso pure queste Perché la mia intenzione è di beccare dei lucky villager Mi stai prendendo? Ok Dobbiamo cercare i lucky villager Quindi... Ehm... Sto facendo notte Andiamo a dormire Quindi dobbiamo aprire un sacco di laghi block E cercare sti maledetti Però ho bisogno anche di un'altra cosa Ossia la... Ehm... Gravity gun Perfetto, questa qua Ok Meno male che c'è sta transmutation table Che ragazzi ci dà un bel po' Di soddisfazioni Allora Andiamo qui Io non voglio fare un episodio lungo ragazzi Quindi io cercherò Di fare una cosa un po' breve Se possibile Andiamo nell'area della distruzione totale Ossia dove Mobzilla Guardate sulla mappa che cazzo ha combinato Il deserto proprio Il deserto La vedo come una buona area Per aprire dei lucky block Allora Cominciamo con i lucky lucky block Quindi quelli fortunati Questi hanno l'hack 96 E vai Delle golden apple Ok E... Però qua lo spazio Qua mi sono rimaste le Mobzilla Vabbè E... Vai Minchia se questo è l'hack Oh L'ho messo in due Un uovo di drago Ah un Cazzo Ah quella cosa lì con Che bello rompere così Allora Qui è un problema perché Dai lucky block Sono usciti dei blocchi Che potrebbero non essere lucky Quindi Io mi allontano Un poppy Cristo Via Ah 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 Ok Dammi un cazzo di lucky villager Eh trovo i coin Potrebbe essere una cagata No Non gli piace Che cazzo Eh sì Tua sorella Che bastardo Io tra l'altro sto facendo tutto questo Con l'armatura del cazzo Cioè non del cazzo Però l'armatura che vola Che non è una buona cosa Quindi Ridammi Togliti l'armatura E mettimi quella buona Mi manca un pezzo Perché mi manca un pezzo Eccolo Ehm Ecco qua Ok Allora Togliamo un po' di Di roba che non ci interessa Perché Uh Un coin Che cazzo è Un uovo di Coin Bello sto fatto che Rompi il coin Necce c'è L'uovo di coin Eh la solita La solita Cagata Allora Buttiamo un po' di roba Tipo questa Tipo questa Tipo questa Rimettiamo dentro Le cose che Dobbiamo conservare Anche perché Anche perché nel caso Amorissimo Questa possiamo pure Metterla dentro Questa non ci interessa Questo manco E questo Manco Così facciamo un po' di spazio Ok Questi mettere qua Ok possiamo continuare Allora A parte che Potevamo Fotterci il beacon Si è rotto tutto Pecore Pecore Non finire Ok Continuiamo ragazzi Ci serve un lucky Villager Abbiamo detto Ma io non ho capito Con la fishing rod Lucky Di cosa si pesca Probabilmente Cioè che cambia Dai Guardate che cazzo Ci sta di sopra Guardate qua Ah ok Ce l'abbiamo fatta Vai giù Un pesce Quindi io con la laghi Pesco il pesce Vabbè Fanculo Tra l'altro Ce l'ho pureggiata Qualche altra parte Ok ragazzi Sono finiti Sono finiti No Non sono finiti Ce ne sono ancora due Sì ma tanto Non servono un cazzo Sti cosi Cioè laghi Un paio di palle Oh Ce la fai Minchia la merda Allora Siamo ai blocchi Normali Quindi potrebbe uscirci Di tutto Questo chi è? Villager normale? Sì Ma dai ma che cazzo fa Blocchi di ossidia Ma tu da dove cazzo sei uscito? Oh questa è mia Questa è mia Questa è roba mia Questa è roba mia Siamo a livello 58 Però purtroppo L'enchanting No 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 Mi sono arrampicato Con il ragno Come un Un cosmo Con il ragno appunto Tante enderpearl Tante 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 sorella Mi hai fatto caga sotto Oh non esce niente Allora tu Stai volando Un po' troppo vicino A me Grazie Ancora Non è lucky E ne stiamo aprendo Un botto Raga Ti e ti butto dentro Un lucky block Aiuto Patate E basta Non me fido Blocco Dispenser Gatti 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 sono Pipistrelli Con una witch Cioè Cioè questi Moro un po' Ne coglioni Qua però Quindi spostiamoci noi Perché se no Oh ma è mai possibile Questa è tutta roba in quarzo Ma noi quarzo Ce l'abbiamo già duplicato Quindi Raga ne sto aprendo tantissimi Mia 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 L'esperienza Bisogna sempre Fotterse Cioè è allucinante Quanti cazzo ne devo aprire Avevo un lucky villager Ancora Cioè Vabbè ma Cioè sempre Sempre quelli Ancora Madonna Quanti ne sto a aprire Raga Roba di TNT Che se sono tutti libri Inciantati Knockback Mmm Non lo so No Credo che non mi servano Tutta sta roba Pure non mi serve Un cazzo Mi lascio solo La roba Con gli enderperle Eccetera eccetera Bellissimi Polli Oh Calmo 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 Ammazza Quanto cazzo Di energia C'ha Un pozzo E tra l'altro Non gli faccio niente Perché non muore Scusatemi Cioè C'ho una mega spada E non muore Vabbè Vattene a far un culo là Eh Eccone in altro Ma questo muore però Pozioni One is lucky One is not Cazzo Questa è tosta Raga Ok Questa è lucky E l'altro no Quindi non lo tocco Proprio Un altro pozzo Con le patate E i bail Di nuovo Di nuovo questo Raga Comincio a pensare Che so Che è oh Pazzo Il rumore di merda Comincio a pensare Che non lo troverò mai Così come non trovo Il cloud pet Non troverò mai Il lucky villager C'è Unlucky squid Che cazzo è Oh c'è un gigante Ok adesso abbiamo anche il morfo del gigante Che cazzo è questo Oh E' comparso Una chest Dei Dei pet Con la distruzione Di mobzilla Fantastico Questa che cazzo è Green crystal flower Perché è qui Non dovrebbe stare qui Dovrebbe stare in un'altra dimensione Bellissimi cavalli Oh Niente di che I pezzi del portale Del land Me li lascio Ragazzi io penso che Non sia proprio cosa Perché Cioè Non riesco a trovare Il cazzo di lucky villager Vabbè Non è terzarla Posso lasciare pure là Anche se Anche se effettivamente Ha un ottimo mc Quindi potremmo usarla Come Fuel Del lucky block Quindi Ragazzi ho aperto 64 Più 64 E' quasi Muori Cioè mi ha avvelenato Sta stronza Per un attimo Interpelle Non so Io Eccolo Allora A parte di un tag Che ci possono servire Questo cazzo è Cronton crystal Di Tardis mod Tra l'altro Il Tardis Ancora dobbiamo farlo Allora Lucky villager Che cosa ci dai Perché non ci dà le pozioni Dovrebbe darci le pozioni In teoria Vabbè Comunque Tu Devi venire con me Devi venire con me Quindi Non morire per favore Ragazzo sta a casa Di là Qua ci serviva Una portal gun Però Io mi sono portato Solo la gravity gun La portal gun Non ricordo neanche Se ce l'ho Ma mi sa che non ce l'ho Con la portal gun Saremmo arrivati Immediatamente a casa Però vabbè Non fa niente E la portal gun La posso fare In teoria E non mi ricordo Se ce l'ho Ma mi sa di no Solo che questo qua Non credo che sia Il lucky villager Buono Perché il lucky villager Che serve a me Deve darmi le pozioni Mentre questo qua Ho visto che non aveva le pozioni Io spero di Spero che sia questa La via di casa Scusami un attimo Sì Ok Vieni qua Vieni qua che ci stanno a sparare Vieni qua C'è proprio di notte Dovevo Dovevo beccare Sto stronzo Sto l'altro Devo pure mangiare Eh vabbè Il cazzo qua Devo passare in mezzo L'acqua Vabbè Non fa niente Ragazzi non posso Manco mettere in pausa Perché per mettere in pausa Devo Premere una combinazione Di tasti Che adesso non voglio premere Se mi scappa Sto fregno Secondo me Affoga Quindi è meglio Tenere salda La presa Non posso più correre Lo devo usare a forza Non qua ovviamente Che cazzo ci sta a destra Lì Ah dungeon Ok Dicevo che magari C'è la roba Allora Dove sono le mie Mele Fermo lì Fermo lì Non ti muovere Vieni con me Oddio Dove cazzo stava Ma cadevo Meno male che posso Correre Arrampicarmi Tipo Spider Mi sono incastrato Tipo Spider Se no Voglio ride Ok Ecco casa Illuminatissima Bellissima Da lontano È bellissima Casa mia Bellissima Ok Questo è il laghetto Vicino casa Non morire Affogato Dai che ce la possiamo fare Ok Siamo a casa ragazzi Siamo a casa Siccome Questi qua sono un po' Stronzi È morto No sta a dormire Meno male sta a dormire Grande Rimani a dormire Perfetto No 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 Fè Lasciala qua Allora siccome questi sono un po' stronzi Devo Trovare un modo un attimo Per incatenarlo Per incastrarlo Quindi Quindi Allora Vediamo un po' se ci sono le fences No però non queste Le iron Dovrebbero essere così No Così No Così Sì Ok Però queste sono bruttissime Quindi c'è un modo per fare un iron fence Un po' più decente Ok Pure questo E pure questo Ah ragazzo Non lo posso fare Allora un iron fence Ah però iron Di ender sì Un iron fence un po' più decente Forse lo possiamo fare col chisel Quindi chiseliamo Do stai tu? Là ok Prendiamo un po' Perfetto Iron bars Iron spikes Fornite iron pain Allora facciamo così Prendiamo queste Facciamo un blocco di iron Anzi facciamolo in diamante Mi piace di più Un blocco in diamante Lo mettiamo Lo mettiamo Qua Sto facendo l'ennesima cagata Te lo sto dicendo Portal gun Allora lui è alto 2 Quindi 1 2 Quindi qua ci andrà Un blocco Quindi facciamo sempre Eh ma sei stronzo però eh Quindi facciamo sempre un blocco di diamante Anzi ci lo mettiamo in emerald Oh Tagli sto coso Ce lo mettiamo in emerald E lo mettiamo qui sopra Qua Così Ok Poi andiamo a dormire in modo che questo pochione si sveglia Comunque non sono convintissimo di quello che sto facendo Perché secondo me Questo qua non ci ha fatto la pozione Ok ciccio Mettite qua sopra Non c'entri Pensavo c'entrasse Allora aspetta Togli questo Vedi che c'entri Mettiti qua sopra Bravo Adesso stai fermo lì Non so quanto devo farlo per bloccarlo Sicuramente Lui guarda della serie Che cazzo stai a fa? Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro No No Vieni qua Allucinante Non riesco più a far A far No allora aspetta qua c'è qualcosa che non quadra Con tutta questa costruzione Con tutta questa costruzione Devo farla prima Tanto lui non può uscire Ragazzi sono buono a fare queste cose Ve ne siete accorti no? A me sembra che stia dentro Devo solo ficcarcelo così Vai là sopra Stai fermo Non mi fa chiudere Sì ecco Sitti No secondo me È troppo largo Ma è largo Ci sciacquo Ci sciacqui lì a dentro Ah vedete perché deve stare bello fisso Dentro Il blocco Altrimenti non mi fa mettere quelli Che mi servono per bloccarlo Io non lo so se questo Allora togliamo sto pollo Perché non riesco a guardare Non so se questo è Ah ok Se io non riesco ad entrare Lui non può uscire Quindi dovrebbe essere così Vedremo se scapperà Ma non penso Buttiamo qua Mettiamolo pure su In modo da Stavo a di fare una cosa più carina Ma non mi sembra Non mi sembra Non mi sembra proprio moltissimo Vabbè l'importante è che sta bloccato qui lo stronzo Perché questo qua se ne scappa come un dannato Allora tu hai diamanti Abbiamo detto Giusto Io di diamanti ti ci riempio Il problema è che secondo me tu non sei quello che cerco Allora Se io ti do diamanti Aha Tu mi dai lucky boots Giusto Ok In teoria dovrebbe essere possibile Perché non me li fa prendere Dovrebbe essere possibile Sbloccare delle cose aggiuntive Una volta acquistati Credo Ok Ok questi l'ha finiti Compriamoci pure quelli I diamanti però ridambili Sta roba inutile Te la puoi pure Mannaffa un culo Che non serve a niente Ok Io non so di preciso come funziona Ragazzi Io me lo sto inventando un po' Al momento Sto fatto Eh Mo c'ho troppa roba E non riesco a Comprare I laghi così qua Che non me li fa comprare No Le shears Cioè Gli sono comparsi le shears Aha Tua sorella Che cazzo ci faccio io con queste Dammi qualcos'altro Addio Non ce l'ho capito Un cazzo Ragazzi Ok Qualcuno Probabilmente Mi dovrà spiegare Come funziona Però in teoria Dovrebbe avere Vari livelli Eh infatti Adesso ho sbloccato Le mele Ma io non voglio Le mele Stronzate qua Io voglio Le pozioni Le mele Le ha finite Dammi queste Eh mi servono tantissimo Non sai quanto mi serve Aha Mi piace Vende A questo Eh Vediamo un po' Ok Io Probabilmente Mi sto riempiendo Di puttanate Per colpa Non ho più Spazio Non ho più spazio È allucinante Tanto tu rimani bloccato qua Proprio per punizione Al di là di come va Tutta sta storia Perché sei un stronzo Che mi dai le shears Cazzo ci devo fare Con le shears Allora Adesso che cosa Mi vendi Pollo Non credo sia normale Ragazzi Non credo sia normale Questa cosa Cioè Credo che Le laghi potion Già avrebbe dovuto Darmene Questo Mi sta a vendere I polli Mi sta a vendere Cioè Allucinante Ma Tu ti rendi conto Di che cazzo Mi sta a vendere Questo Adesso Questo l'ha finito Vediamo se passa Di livello E magari Fa uscire Qualcosa Di decente Guarda la merda Che mi ha venduto E per i polli Mi dai il diamante L'emerald Vabbè Ragazzi Non è lui Non è lui Niente Allora Bisogna fare un'altra sessione Di apertura Di laghi block Ovviamente Non la faccio Dopo questa puntata Sennò diventa tutto Un apri apri I laghi block Comunque L'obiettivo È quello Di Fondamentalmente Trovare Trovare un laghi Villager Che ci dà Le laghi Potion Di queste laghi Potion Poi ci sono Vari tipi Di cui uno Veramente Molto Potente Che può essere Veramente Molto Utile Per combattere I boss Più Più Forti Ci sono rimasto Un po' di merda Questo laghi Villager Finalmente Era uscito Non so se lo farò Off camera O se lo farò Così Ditemi voi Se volete Vederla Un'altra puntata Dei laghi Block Così Io vi do appuntamento Al prossimo episodio